La Casertana si prepara alla gara interna contro la regina, parola d'ordine per gli uomini di tedesco vincere e riuscire ad ottenere tre punti per spazzare la sconfitta contro il Francavilla, una parentesi da chiudere subito. La Casertana non vince in casa dal 14 settembre, in vista del calendario tutto in salita bisogna perciò portare a casa più punti possibili. Per la Paganese il ruolino di marcia esterno non è dei migliori con due vittorie e due sconfitte, ma la vittoria interna ai danni del Melfi ha ridato vigore alla squadra di Mr. Grassandonia e le vicissitudini di inizio stagione sembrano ormai un ricordo lontano. Nella gara di domenica contro il Cosenza l'allenatore salernitano potrà nuovamente contare sul centrocampista Pestrin, rientrato dalla squalifica. Il Matera, reduce da un'inaspettata sconfitta contro il Siracusa, cercherà di riprendere il cammino positivo e lo farà domenica prossima contro il Catanzaro. Per Mr. Auteri una gara da non sottovalutare, i giallorossi infatti hanno ormai imboccato la strada giusta recuperando quota negli ultimi due match. Dalla sua il Matera ha certamente il fattore stadio che fino a questo momento ha portato a risultati positivi. Il Siracusa già lavorò per la delicata trasferta di Vibbo, sui rosso-blu solo un punto di vantaggio e la differenza con la compagine calabrese è minima. Mantenere il distacco infatti un pareggio in più è proprio in trasferta. Sarà questa forse l'arma di Mr. Sottil? Maria Chiara sigillò per la C News 24.